Il potenza va veloce, dopo l'inizio folgorante in Coppa con i successi di prestigio su Cerignola e Benevento, ecco il primo Ura anche in campionato, a dar seguito al pari in extremis di Messina. Alviviani, pochi problemi contro una Tourist in difficoltà, superata 2-0 con le solite marcature di Caturano e Dauria. De Giorgio, contento del 2-2 in Sicilia, conferma in blocco l'undici del primo turno. Foli a lastra, in porta fiducia a Cucchietti nonostante qualche incertezza. Tersini, Novelle e Burgio, Felipe, Erradi e Castorani a reggere il tridente Rossetti-Caturano-Dauria. Con molte defezioni, i corallini di Mirko Conte provano a riemergere. Difesa da reinventare, complice la squalifica di Cucchietti e la cessione di Maestrelli. Con Ricci nel 3-4-2-1 giocano Frasca e Desiato, peso dell'attacco affidato a Solmonte. Comanda fin da subito il potenza. Dauria vede Caturano a centro aria, il ristabilito Marcone si accartoccia con sicurezza. Mette il naso fuori dalla propria metà campo Laturis. Solmonte si libera bene in aria, non trovando lo specchio della porta. Dauria e Caturano, sempre loro i protagonisti dei Lucani. L'ex di giornata manda nel panico il malcapitato Desiato. Cioccolatino per il suo capitano che sbaglia l'impossibile. Poi è lesto nel rialzarsi e depositare in rete il terzo centro della sua stagione, il secondo in campionato. L'1-0 mette in discesa le operazioni per il potenza. Marcone in perfetto sulla botta di Castorani. Caturano in sacca, ma in offside nonostante le proteste. Nuova esplorazione potentina al 41esimo. Rossetti in qualche modo mette giù il traversone di Castorani. Dauria in corsa, manda alto. Occasione Turris nel secondo minuto di recupero. Bel movimento di Solmonte tra Sciacca e Novella. Cucchietti è lì e chiude la grande lo specchio. Altra protesta e altra chance potenza all'ora di gioco. Caturano cinturato da Scacca Barozzi in aria, ma non c'è rigore. Arriva Sciacca che cestina un gol praticamente fatto. Il punto della sicurezza arriva al 66esimo. Palla geniale di Agadi. Dauria aggancia e dà un dispiacere alla sua ex squadra. 2-0 e primo gol in campionato per un acquisto più che azzeccato. Sussulto campano nel finale. Prima Giannone impegna Cucchietti dei 25 metri. Poi Scacca Barozzi mette sul fondo dopo un bel lavoro a sinistra. Il Potenza si divore il tris nel recupero. Caturano esagera col tacco da due passi. Compito ancora più agevole per Felipe che si dispera mettendo fuori. Una semplice sottigliezza. Il Potenza vince da autorità e sale a 4 in classifica. Ottimo lavoro fin qui del gruppo di Pietro De Giorgio. Tra 7 giorni nuova uscita al Vigorito contro il Benevento. Questa volta in palio ci sono i tre punti e una bella valigia di certezze.